Riprendendo il nostro discorso sulla filosofia moderna, parleremo oggi della rivoluzione scientifica. Come avevamo già detto la volta scorsa, la filosofia moderna è quella che va più o meno dal 1400 al 1700, ma avevamo anche detto che i primi due secoli, il IV e il 500, possono essere considerati come dei secoli intermedi di passaggio tra la storia del pensiero medievale e la filosofia moderna, vera e propria. Perché? Perché l'elemento veramente decisivo di passaggio dall'età medievale all'età moderna, vera e propria, è proprio la rivoluzione scientifica. Come vediamo in questo brevissimo schema, il XVII secolo, il 1600, è il secolo della rivoluzione scientifica rappresentata dalla figura di Galileo Galilei, dalla rivoluzione tecnologica, dalla figura del filosofo inglese Francis Bacon, italianizzato Bacone e poi soprattutto dalla nascita di quella corrente filosofica che è il razionalismo con Cartesio, che poi si svilupperà alla fine del secolo con Spinoza e anche Leibniz fino ai primi del Settecento, ovvero quelle correnti filosofiche che caratterizzano veramente l'età moderna e che però prendono spunto proprio dalla rivoluzione scientifica. Perché? Perché la rivoluzione scientifica è, si potrebbe dire, è quell'evento storico, filosofico, di cultura, di pensiero che segna, potremmo dire in maniera molto banale, semplice, la fine dell'aristotelismo, cioè la fine di quella concezione del mondo basata sulla filosofia del grande filosofo antico Aristotele. Aristotele è un filosofo antico, sì, è vero, ma la sua eredità prosegue per secoli e secoli per tutto il Medioevo. Abbiamo già trattato il pensiero di San Tommaso durante la scolastica, che è poi il pensiero di Aristotele rivisitato in chiave cristiana, ma sarà solamente la rivoluzione scientifica, come vedremo con i suoi protagonisti, scienziati, astronomi, ma che trova il suo culmine in Galileo Galilei, a porre fine alla secolare dominazione del pensiero da parte di Aristotele. Poi vediamo che la filosofia moderna prosegue nel Settecento con l'empirismo di Locke e Hume e il criticismo di Kant, ma veniamo a parlare appunto della rivoluzione scientifica come di quella, diciamo, rivoluzione del pensiero che a partire dalla scienza arriva a rivoluzionare poi con Cartesio anche la metafisica, quindi partendo dalla rivoluzione della fisica scientifica in generale, parte come rivoluzione astronomica, ma poi si allarga tutta la fisica, come vedremo Galileo Galilei è anche e soprattutto un fisico, ma un astronomo, uno scienziato e un filosofo appunto, ecco è una rivoluzione che poi segnerà il cambiamento del pensiero filosofico. Vediamo su cosa si basa la rivoluzione scientifica che riguarda proprio il 1600, il secolo che nella storia abbiamo definito il secolo dell'assolutismo, il secolo del barocco nell'arte, il secolo della crisi, della peste, certo di tante altre caratterizzazioni storico-politiche, ma che dal punto di vista della storia del pensiero è il secolo della rivoluzione scientifica. Nasce, come vediamo, la scienza moderna, fondata su due principi basilari che differenziano nettamente il pensiero scientifico rispetto al passato. Il primo aspetto della scienza moderna è l'osservazione dei fenomeni e il secondo il calcolo matematico. Quindi avevamo già anticipato gli elementi della rivoluzione scientifica con la filosofia del Cinquecento, la filosofia della natura, in cui si inizia a osservare la natura, ma l'osservazione dei fenomeni significa l'attenzione all'aspetto proprio dei sensi nel vedere le cose della natura. Fino a quel momento la natura, la scienza, era basata sullo studio dei libri, sullo studio della tradizione. Con la rivoluzione scientifica c'è una messa in discussione del principio di autorità, lo vedremo tra poco. E quindi la natura non è più studiata sui libri, ma si studia guardandola direttamente, con i sensi. Quindi osservazione non solo è come vista, vista, ascolto, come toccare la natura per poterne percepire i movimenti, i mutamenti. Ma poi soprattutto il calcolo matematico, quella che Galileo chiama era matematizzazione dell'universo. Cioè fino a quel momento la natura, la fisica, non avevano nulla a che fare con la matematica. Aristotele aveva creato la scienza della fisica, una delle sue scienze teoretiche, una fisica qualitativa, una fisica basata sulle essenze, che non aveva nulla a che fare con la matematica. Ora, per la prima volta nell'Europa del Seicento si introduce la matematica nello studio dei fenomeni della natura. Anzitutto, l'avevamo detto, nell'astronomia. Oltre a questo c'è lo sviluppo della tecnica. Anche qui, con Giordano Bruno, con Leonardo da Vinci, avevamo anticipato la concezione umanistico-rinascimentale dell'uomo, il cosiddetto homo faber in latino, cioè l'uomo che non è solo intellettuale, ma anche colui che con le mani riesce a costruire gli strumenti, e quindi la tecnica, per poi migliorare la vita, per intervenire sulla natura. Questo diceva Giordano Bruno, ma in questo caso, nel discorso della rivoluzione scientifica, lo sviluppo della tecnica ha a che fare soprattutto con la creazione di strumenti con i quali l'uomo può studiare la natura. Pensiamo a strumenti come il termometro, il barometro, che verranno più avanti, addirittura il microscopio molto più avanti. Il primo è il cannocchiale, per quello che riguarda Galileo sarà fondamentale. Quindi abbiamo una scienza non più qualitativa, come in Aristotele, ma una scienza quantitativa, quindi fondata sul concetto di misurazione, di misurabilità. Tant'è vero che Galileo, come abbiamo detto, ha utilizzato questo termine, matematizzazione dell'universo, cioè calcolare, studiare l'universo con gli strumenti della matematica. Critica al principio di autorità, cioè non bisogna più prendere come fosse un verbo indiscusso quello che sta scritto sui libri, l'autorità degli antichi, della tradizione, del passato, nella fattispecie di Aristotele. Viene messa in discussione. C'è una critica al principio di autorità, che è un principio di autorità, peraltro non solo filosofico, ma vedremo che avrà anche molto a che fare con la Chiesa, con l'autorità della Bibbia, perché fino al 1600 la concezione della natura e dell'universo era molto legata a quello che diceva la Bibbia, quello che dicevano i testi sacri. Anche questi testi sacri, assolutamente con Galileo, verranno messi in discussione come autorità scientifica, non certo come autorità religiosa, ovviamente. Quindi a partire dall'osservazione della natura, la scienza è in grado di fornire delle leggi universali. Quelle leggi che, come dicevamo ancora, non potevano essere formulate nel 500, nella filosofia della natura di Giordano Bruno, con Galileo possono essere formulate. Ecco la differenza netta tra la filosofia di Bruno, che è ancora una filosofia della natura legata a quella atmosfera di magia e di alchimia cinquecentesca, a un 600 in cui attraverso l'osservazione, il calcolo matematico, lo scienziato può formulare leggi universali a partire dall'osservazione della natura. Parliamo anzitutto dell'astronomia. Abbiamo detto che la rivoluzione scientifica è prima di tutto una rivoluzione astronomica. Si passa dalla teoria geocentrica, quella appunto di Aristotele e Tolomeo, alla teoria eliocentrica di Niccolò Copernico. Avevamo citato Copernico già a proposito di Niccolò Cusano, a proposito di Giordano Bruno. Giordano Bruno abbracciava la teoria copernicana, ma come abbiamo detto quella di Copernico era un'ipotesi fino a Galileo, un'ipotesi secondo la quale al centro dell'universo non c'è la Terra, geocentrismo, teoria geocentrica, quella di Aristotele ripresa poi dall'astronomo egizio Tolomeo, ma al centro dell'universo c'è il Sole. Il Sole è al centro e tutti i pianeti ruotano attorno al Sole. Questa era la teoria di Copernico che venne appoggiata da Bruno con conseguenti processi e condanna a morte, sappiamo, perché era considerata eretica dalla Chiesa e che diventerà poi una teoria dimostrabile scientificamente proprio con Galileo. Ma nominiamo almeno altri due grandi scienziati, oltre a Copernico, che porteranno avanti questo nuovo studio scientifico dell'astronomia. Dopo Copernico ci sarà un astronomo danese, Tico Brahe, da ricordare soltanto per una teoria molto curiosa, se vogliamo, intermedia fra la teoria geocentrica e quella eliocentrica. Si parlava addirittura di un sistema ticonico dal nome Tico, Tico Brahe, il quale credeva che appunto al centro dell'universo sempre la Terra, con il Sole che ruotava attorno alla Terra, come voleva il sistema tolemaico, anche appoggiato dalla Chiesa, mentre tutti gli altri pianeti del sistema solare ruotavano attorno al Sole, quindi una teoria un po' diciamo mista. Mentre invece Keplero è l'astronomo tedesco che per primo formulò le leggi del movimento ellittico dei pianeti, non più circolare come nel sistema aristotelico, ma ellittico. E da qui anche il fatto che i pianeti avessero una velocità diversa a seconda del punto dell'ellisse in cui si trovavano. Quindi la Terra non è più né immobile e nemmeno al centro dell'universo, anche perché le due cose sono legate tra loro. Chiaramente pensare ad una Terra al centro dell'universo significa pensarla immobile, chiaramente. Ma nel momento in cui si perde la centralità vuol dire che la Terra si muove. La Terra si muove attorno al Sole. Finisce anche la distinzione tra fisica terrestre e fisica celeste, quella distinzione che aveva fatto Aristotele e questa sarà un'altra motivazione di scontro di Galileo con la Chiesa perché mette in discussione il fatto che il mondo celeste sia un mondo perfetto. Cioè la prima cosa che scoprirà Galileo è che anche la Luna e gli altri pianeti sono fatti degli stessi elementi che noi troviamo sulla Terra. Quindi non c'è una distinzione tra i quattro elementi terrestri e l'etere cristallino, come voleva Aristotele e come voleva la storia del pensiero fino a Galileo. Oltre a questo si afferma l'infinità dell'universo, non solo dal punto di vista filosofico, come diceva Bruno, ma proprio scientifico, e poi la valorizzazione dell'esperimento e dell'osservazione come elementi base proprio della rivoluzione scientifica. Ma veniamo nello specifico alla figura del grande scienziato italiano che ha cambiato veramente il modo di pensare, ha cambiato la scienza e ha dato l'avvio, lo possiamo dire fin da ora, a quella rivoluzione della fisica che ha portato poi alla formulazione delle leggi universali di Newton. Newton è il filosofo e soprattutto lo scienziato, il fisico inglese, che tra la fine del 600 e i primi del 700 ha dato le leggi della fisica moderna, ma colui che ha aperto la strada a Newton è stato Galileo Galilei. Galileo nasce a Pisa nel 1564 e prima a Pisa e poi a Padova sarà insegnante, insegnerà fisica ma anche filosofia e curiosamente quella filosofia di Aristotele che però durante i suoi studi piano piano metterà in crisi e in discussione, quindi avrà anche un percorso tormentato di vita, un intellettuale, uno scienziato che insegna la fisica di Aristotele ma che nello stesso tempo porta avanti degli studi che andranno a distruggere il sistema aristotelico. Il suo insegnamento a Pisa e a Padova andava avanti dal 92 fino al 1610. Durante questi anni lui sperimenterà questo strumento straordinario che era di origine olandese, ovvero il cannocchiale. Lui farà degli esperimenti, costruirà il cannocchiale, quindi Galileo non dobbiamo immaginarlo appunto secondo quella mentalità umanistico-rinascimentale, non solo un intellettuale sui libri ma un uomo che costruisce proprio, lui costruirà proprio in senso fisico il cannocchiale e attraverso il cannocchiale sarà in grado di guardare il cielo, di guardare le stelle, di guardare i pianeti e le più importanti osservazioni compiute da Galileo attraverso il cannocchiale riguarderanno le macchie solari, il che fa capire a Galileo che non si tratta di un elemento perfetto fatto di etere, ma poi anche la superficie della luna che non è cristallina perché lui vedrà appunto i crateri della luna e i satelliti di Giove, quindi con il cannocchiale inizia a guardare il cielo e a scoprire quello che dicevamo prima appunto che la teoria copernicana era una teoria valida, cioè la Terra e gli altri pianeti ruotano attorno al Sole che è immobile al centro del sistema. Nel 1610 inizia a pubblicare le sue teorie scientifiche in un'opera chiamata Sidereus Nuncius, cioè annuncio siderale, cioè una sorta di descrizione dell'universo fatto attraverso gli occhi, ma soprattutto l'opera principale di Galilei che procurerà grandi problemi con la Chiesa Cattolica e con il Papa, sono il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo del 1632. Quest'opera importantissima, una delle più belle e importanti operi scritte nel volgare della lingua italiana, quindi Galilei era considerato da Italo Calvino come il più grande scrittore italiano del Seicento, con un linguaggio molto semplice, scorrevole e quindi anche rivolto non solo ai dotti, agli intellettuali, ma rivolto a tutti coloro che fossero interessati di queste questioni. Ed è un dialogo molto famoso perché era un dialogo fra due personaggi veneziani, dei quali uno, che si chiamava Simplicio, era portavoce della teoria aristotelico-tolemaica, cioè del geocentrismo, mentre l'altro, Sagredo, portava avanti la teoria copernicana. Chiaramente Galilei in questo dialogo fa capire la sua propensione per la teoria copernicana e quindi la Chiesa si sentirà colpita, addirittura sembrava quasi dal dialogo che quel personaggio di Simplicio, che viene messo in contraddizione nel dialogo, rappresentasse lo stesso Papa e quindi Galileo viene processato, condannato e costretto ad abbiurare alle sue tesi. Quindi questa è la grande differenza con Giordano Bruno. Galileo Galilei si piega alla Chiesa di Roma, abbiura le proprie tesi, anche pur sapendo che sono valide, e grazie a questa abbiura non verrà condannato a morte ma semplicemente a quelli che oggi chiameremmo arresti domiciliari, cioè costretto a vivere nella sua casa in Toscana, ormai anziano perché siamo dopo il 1633, dove lui morirà circa dieci anni dopo, nel 1642. Galilei è ricordato però soprattutto per aver formulato il cosiddetto metodo scientifico. Il metodo scientifico di Galilei è il metodo che rappresenta l'integrazione tra l'esperienza, cioè i sensi, e la ragione. Abbiamo detto prima dell'osservazione, del calcolo matematico. Il metodo scientifico di Galileo, il metodo galileiano, è proprio fondato su due momenti principali, con un terzo momento che poi vedrà la verifica dei primi due. Anzitutto la critica di Galileo è la critica all'essenzialismo. Che cosa si intende con questo termine? Cioè è un termine secondo il quale la natura era costituita da essenze, e questa parola viene proprio da Aristotele. L'essenza era la qualità intrinseca di un ente, era quella qualità secondo la quale ogni ente naturale era destinato a raggiungere il suo luogo naturale, in base alla propria essenza. Quindi era una valutazione del mondo fisico basata su concetti di qualità. E questo essenzialismo era stato mantenuto nei secoli fino al Cinquecento, anche durante il periodo della filosofia della natura e della magia. Si credeva alla natura costituita da essenze, cioè da elementi naturali che si comportavano in base alla loro essenza. E poi al finalismo. Quindi Galileo critica l'essenzialismo e il finalismo, cioè il concetto secondo il quale la natura agisce secondo un fine. Vedremo che invece Galileo vuole affermare attraverso l'osservazione e il ragionamento scientifico che la natura si comporta non in base al fine, ma in base alla causa. Quindi è una natura causale e non finale. Questo finalismo che a partire da Aristotele diventava un po' il punto di riferimento dello studio della natura viene superato con la rivoluzione scientifica con il metodo scientifico di Galileo. Il metodo di Galileo, come vediamo in questo schema, è diviso in tre momenti. Il primo chiamato il momento delle sensate esperienze, il secondo momento le necessarie dimostrazioni, e poi vedremo il terzo momento, il cosiddetto cimento o esperimento. Ora, i termini sensate esperienze e necessarie dimostrazioni sono proprio le parole utilizzate dal grande filosofo pisano. Che cosa si intende per sensate esperienze? Intanto spieghiamo il termine. Contrariamente a quello che potrebbe sembrare in apparenza, esperienze sensate significa le esperienze dei sensi. La vista, l'udito, il tatto, l'odorato, l'olfatto, il gusto, le esperienze dei sensi. Il primo momento della scienza, secondo Galileo, è il momento dell'osservazione. E infatti è chiamato momento osservativo, osservativo-induttivo. Perché? Come sappiamo l'induzione è quel ragionamento che parte dal particolare per giungere all'universale. Quindi l'osservazione riguarda il singolo fenomeno particolare. Dopo aver osservato più fenomeni, si passa quindi con questo momento osservativo, dal particolare si arriva poi all'universale. Quindi il momento osservativo è anche induttivo. Dal particolare, dall'osservazione dei particolari momenti, si arriva poi a, diciamo, indurre quello che è l'universale. E appunto è costituito questo momento dall'osservazione dei fenomeni naturali e quindi superamento della dottrina aristotelica, ovvero quella dottrina secondo cui appunto la natura era costituita da essenze con finalità, con finalismo. Il secondo momento però alle necessarie dimostrazioni. Sottolineiamo questo fatto, non sono due momenti separati, in realtà. Cioè sono due momenti che vanno integrati fra loro. Quello che ci tiene a dire Galileo è che la scienza è fatta di sensate esperienze, quindi di un momento in cui agiscono i sensi, ma poi contemporaneamente di necessarie dimostrazioni. Che vuol dire che una volta osservata la natura e i fenomeni, lo scienziato formula delle ipotesi. Quindi dal momento osservativo si passa al momento ipotetico. Lo scienziato deve formulare le ipotesi sulla base dell'osservazione. Le ipotesi che cosa sono? Sono delle leggi universali, ma queste leggi universali, se sono universali, devono valere anche per il singolo particolare. Quindi il momento ipotetico è anche un momento deduttivo, perché la deduzione, al contrario dell'induzione, è quel ragionamento che dall'universale giunge al particolare. Dedurre il fenomeno particolare a partire dalla legge universale. Quindi l'osservazione del fenomeno è particolare e ci deve portare alla legge universale. Mentre la necessaria dimostrazione, che è il momento razionale, se vogliamo, del metodo scientifico, a partire dalla legge universale, deve poi giungere al caso particolare. Quindi il momento ipotetico consiste nella formulazione di leggi attraverso la deduzione logico-matematica e quindi le ipotesi. Queste ipotesi, però, come avevamo anticipato, devono essere dimostrate tramite il cimento, cioè l'esperimento. Una volta che lo scienziato osserva e attraverso la ragione deduce le leggi universali, che cosa succede? Le deve mettere in pratica. Quindi abbiamo capito che abbiamo come ci insegna la gnosiologia, appunto, la scienza secondo la quale la conoscenza è di due forme diverse, se no può essere sensibile o intellegibile. Questo metodo scientifico unisce le due forme di conoscenza. Prima la conoscenza sensibile, nel momento delle sensate esperienze, poi il momento intellegibile, le necessarie dimostrazioni, cioè il momento razionale, il ragionamento, e infine la verifica sperimentale. È la conferma, appunto, della verifica sperimentale, cioè del laboratorio, che ci permette di dimostrare la validità della legge. Facendo un esempio, noi potremmo dire che, un esempio banalissimo, ecco, attraverso l'osservazione lo scienziato vede che con il sole l'acqua evapora, quindi c'è l'evaporazione dell'acqua. Questa è l'osservazione del fenomeno. Basta guardare dopo un giorno di pioggia, smette di piovere e con il sole l'acqua evapora. Questa è l'osservazione, il primo momento, le sensate esperienze. In un secondo momento, dopo l'osservazione, lo scienziato formula un'ipotesi. Qual è l'ipotesi? L'ipotesi è che il sole, producendo calore, porti come causa, quindi non come fine, non che l'acqua evapori perché abbia una finalità, ma perché la causa dell'evaporazione è il calore che viene dal sole. E allora, se una volta formulata la legge secondo la quale il calore causa, provoca come effetto l'evaporazione, c'è l'esperimento. Cioè lo scienziato, in laboratorio, che cosa fa? Prende l'acqua, la sottopone a una fonte di calore, che può essere un fuoco, e vede che quell'acqua evapora. Quindi il cimento è una sorta di esperimento di laboratorio, ma noi abbiamo scritto a volte ideale. Perché? Perché non sempre è possibile realizzare, dal punto di vista fisico, pratico, vero, quella che è l'ipotesi della legge formulata dallo scienziato. Ad esempio, Galileo aveva ipotizzato delle leggi riguardanti il vuoto, cioè la mancanza di aria, e non c'era ancora stato Torricelli ad inventare, appunto, a realizzare il vuoto, insomma. E quindi alcuni esperimenti sono soltanto ideali o mentali. Concludiamo il pensiero di Galileo attraverso le sue frasi principali, i suoi pensieri. La natura è un libro scritto con il linguaggio della matematica. Questa è una frase suggestiva che ci dimostra quello che dicevamo prima a proposito della rivoluzione scientifica. Quindi la natura è qualcosa che noi possiamo decifrare, è come un libro che però noi possiamo sfogliare, però la lingua della natura è la matematica. Attraverso il suo metodo scientifico, i suoi studi, Galileo distingue tra qualità oggettive e soggettive delle cose della natura. E quindi lui dice che tutto ciò che è misurabile, che è calcolabile, sono le qualità oggettive, come ad esempio la lunghezza di un oggetto o il peso di un oggetto. Le qualità scientifiche misurabili sono le qualità oggettive o qualità primarie, mentre poi dobbiamo distinguere dalle qualità oggettive quelle soggettive, cioè legate ai sensi, come per esempio il sapore o l'odore. Ora, questa distinzione tra qualità oggettive, che quindi possono rientrare nella scienza, e qualità soggettive che essendo legate ai sensi e quindi ad una percezione individuale non possono essere scientifiche, ha a che fare sempre ancora con Aristotele, il quale parlava di qualità degli enti come se fossero qualità universali. La scienza crea una separazione tra le qualità misurabili e quindi che rientrano nella scienza e quelle invece soggettive. Vediamo in conclusione la mappa concettuale che ci riassume brevemente il pensiero di Galilei e la nascita della scienza moderna, come vediamo quello che abbiamo già detto, dimostra la verità della teoria eliocentrica copernicana, critica il principio di autorità, elabora il metodo scientifico. Allora, la teoria eliocentrica copernicana non è in contrasto con la Bibbia. Questo lo abbiamo accennato prima, però lo schema ci permette di dire questa cosa importante che in realtà è significativa. Galileo diceva, secondo lui, secondo Galileo, la Bibbia doveva essere un testo di riferimento dal punto di vista religioso, ma non un testo di fisica o di astronomia. Infatti lui diceva che i libri sacri, i libri della Bibbia, e i vangeli, ci devono dire come si vada in cielo, ma non come sia fatto il cielo. Ecco, questo apparente gioco di parole significa appunto che la Bibbia viene rispettata e comunque mantenuta da Galileo come testo valido per il fedele, per la Chiesa. Quindi la teoria copernicana, secondo Galileo, Galileo è il primo a dirlo, non è in contrasto con la Chiesa, non va contro la Bibbia, perché la Bibbia non è un testo che pretende di avere validità scientifica, ma è un testo religioso. Quindi fede e scienza hanno competenze e linguaggi diversi. Poi c'è la critica al principio di autorità, appunto questo finalismo ed essenzialismo del mondo di carta, cioè dei libri, quindi bisogna passare dal mondo di carta al mondo vero e proprio, ed infine il metodo scientifico articolato in sensate esperienze, cioè compiute con i sensi, il momento osservativo e induttivo, e le necessarie dimostrazioni, ragionamenti su base logico-matematica, al momento ipotetico-deduttivo, che poi viene verificata dal cimento, la prova dei ragionamenti scientifici attraverso procedure sperimentali. Quindi con Galileo Galilei concludiamo il discorso della rivoluzione scientifica, passando poi, quindi come avevamo anticipato, all'inizio della filosofia moderna vera e propria che, ha origine con quel grande filosofo francese René Descartes, Cartesio, che aprirà la strada alla corrente filosofica del razionalismo.